A proposito della grande retata che Giorgia Meloni ha sventolato come mastodontica vittoria sul disagio a Parco Verde e Caivano, recuperando qualche spicciolo e una decina di pacchetti di sigarette di contrabbando, ci permettiamo di dare un consiglio al governo per utilizzare al meglio il dispiegamento di forze e per una bonifica, come la chiamano loro, che farebbe bene all'Italia intera. Dando un'occhiata all'attività di vigilanza dell'ispettorato del lavoro relativa solo al primo trimestre di quest'anno, si scopre che su 28.563 ispezioni si è riscontrato un indice di irregolarità nell'attività di vigilanza pari al 66,7% sul lavoro, dell'83% nei controlli previdenziali, addirittura il 94,5% di irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza assicurativa. 4.363 lavoratori sconosciuti dallo Stato, 71.700 lavoratori sottostavano un rapporto di lavoro irregolare e 11.055 fittizi. Mentre a Caivano hanno recuperato poche migliaia di euro, nei primi tre mesi lo Stato ha recuperato 49 milioni di euro solo in sanzioni, in tre mesi e non in 80 anni, come accade per i soldi che restituiscono i partiti politici, oltre a 210 milioni di euro recuperati in premi e contributi. Si può intuire, quindi, che i controlli degli ispettori vadano praticamente a colpo sicuro. Ecco qua, la bonifica da rinforzare e moltiplicare sul territorio nazionale permette di recuperare molto più denaro della persecuzione di qualche furbetto e in più garantisce un luogo più sicuro per i lavoratori italiani.